I domini dello spazio e della dimensione subacquea in Parlamento? Sì, arrivano due disegni di legge, uno dal governo a prima firma Musumeci e l'altro è stato a prima firma Urso. Quello di Urso riguarda lo spazio ed è già in commissione attività produttive. In questa fase si stanno tenendo le audizioni dei soggetti che possono aiutare alla costruzione del disegno di legge. Un disegno di legge articolato, sono 30 articoli che va a interessare tanti settori. Pensate solo che sulle 14 commissioni presenti in Parlamento ben 10 delle commissioni dovranno esprimere il loro parere, più la commissione affari regionali che una commissione parlamentare. Invece per quanto riguarda il dominio underwater, il dominio subacqueo, il 27 settembre il governo ha presentato questo disegno di legge e ancora non è arrivato in Parlamento. Ma perché disegni di legge e non decreti legge? Perché ci sono materie che sono materie strategiche. Il dominio spazio, il dominio subacqueo sono domini su cui la strategia del Paese si basa e quindi si deve lavorare per trovare la massima unità, il massimo consenso e sono convinto che come sempre il Parlamento lavorerà per trovare soluzioni comuni. Che ne pensa di eventi come quello di oggi? Ma sono fondamentali, sono importantissimi. Anzi, credo che Cyber Security Italia abbia fatto con questa conferenza internazionale un lavoro prezioso e utile anche e soprattutto per la nostra attività perché c'è bisogno sempre di confrontarsi perché il vero limite, che ho detto anche durante il mio intervento, è che su questi temi c'è una carenza culturale quindi c'è bisogno di condividere sempre più informazioni perché bisogna rendere sistemiche sia domini come quello dello spazio che come quello del subacqueo ma anche quello della cibersicurezza dove purtroppo la cultura in questo momento nel Paese non è ben diffusa.